Nelle Marche vengono prorogati gli effetti del piano casa in via transitoria e fino al recepimento da parte dei comuni delle prescrizioni contenute nella nuova legge urbanistica. Ciò è stato possibile in virtù dell'accordo sottoscritto tra Regione e Ministero della Cultura come previsto dalla stessa legge sul governo del territorio. Sarà dunque consentito ai comuni di autorizzare interventi edilizzi in deroga al piano regolatore con incremento fino al 20% della volumetria nell'edificio previa deliberazione del Consiglio Comunale. L'accordo con il Ministero della Cultura che consente alla Regione Marche, unica regione in Italia insieme all'Emilia Romagna, di poter proseguire anche con l'attuazione dei piani casa. La deroga consentirà comunque di poter andare a portare avanti le attività legate al piano casa su tutte le parti dei territori tranne i centri storici, non più con un ampliamento come ho fino ad oggi previsto, fino all'anno previsto del 40% ma per un ampliamento possibile fino al 20% perché appunto essendo una norma transitoria andrà a regime quando i comuni poi porteranno avanti i loro nuovi piani urbanistici. Quindi questa è una grande occasione e proseguo di sviluppo per la nostra Regione che solo grazie all'attuazione della nuova legge urbanistica può essere consentito, altrimenti i piani casa sarebbero già scaduti da due anni anche nella Regione Marche così come sono scaduti in tutte le altre Regioni d'Italia. È un risultato che contraddistingue per la nostra Regione un'opportunità che invece in tanti altri territori oggi non c'è più. Quindi questo è un elemento significativo a cui vogliamo continuare a lavorare e che potrà diventare strutturale anche quando la nuova legge urbanistica potrà diventare un'opportunità strutturale che è a servizio della nostra comunità marchigiana.